Erbacce e canne ostruiscono il defluire dell'acqua provocando allagamenti ai terreni circostanti e ingenti danni alle aziende agricole e alle abitazioni. E quanto fa notare dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla provincia di Salerno causando gravi danni nell'agronocerino sarnese col diretti che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sulle sponde del fiume ed oggi rilancia la necessità di interventi di pulizia necessari per ridurre il rischio esondazione. Sì infatti abbiamo registrato notevoli danni dovuti a questa ondata di maltempo peraltro aspettata e prevedibile che però non ha esentato il manifestarsi di numerose esondazioni vento che hanno danneggiato molte culture. In particolare nell'agronocerino sarnese abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi nelle aziende agricole e abbiamo verificato le esondazioni del fiume Sarno, una storia vecchia che si ripete ogni anno dovuta a una manutenzione praticamente inesistente del fiume che ovviamente invaso da canne e da alberi limita il deflusso delle acque peraltro superficiali perché il letto del fiume anche man mano si è alzato perché le sabbie che scendono dalle montagne hanno limitato, limitano attualmente anche il flusso d'acqua. Quindi una situazione di emergenza che abbiamo messo in evidenza dal presidente dell'ente parco del fiume Sarno con l'auspicio che si effettuano immediatamente questi lavori perché gli agricoltori non possono essere quelli che pagano i danni dalla cattiva manutenzione. Gli agricoltori sono le sentinelle del territorio ma devono essere aiutati a manutenerlo e questi eventi danneggiano evidentemente l'economicità del fare agricoltura nell'agronocerino sarnese ma danneggiano e mettono a rischio anche le vite umane quando si verificano questi eventi. Diretti tra l'altro direttore è pronta a sostenere la richiesta dello stato di calamità naturale che viene portata avanti in Parlamento da diversi rappresentanti di Salernità. Sì l'onorevole Piero De Luca si è fatto in qualche modo portavoce di questo grido di allarme che abbiamo lanciato e sosteniamo veramente in questo caso la necessità di attivare lo stato di emergenza per consentire all'Azine Negri quantomeno di avere un ristorno per quanto riguarda gli oneri contributivi visto che le piantagioni di finocchi piuttosto che quelle lì di cipollotto nocerino che sono state le maggiormente danneggiate in quell'area dovranno essere ripiantate e ritrapiantate perché si stanno evidenziando a distanza di 2-3 giorni i marciumi radicali che di fatto ne compromettono. C'è una stima dei danni? Per la storia del comune di Sarno parliamo di circa un milione d'euro.